Voglio davvero ringraziare tutti quelli che appunto danno un grande contributo, con generosità, con impegno. La protezione civile, ricordavo prima, saluto Guido Bertolaso, a cui tanto si deve dal punto di vista dell'attività che la protezione civile ha fatto nel corso degli anni a servizio del Paese. Grazie a lui, grazie a tutta la protezione civile, a questa bellissima famiglia di volontariato, di valori, di generosità, che spesso ci consente appunto di combattere le sfide con un'arma ancora più efficace. E grazie a tutti coloro i quali a vario titolo appunto si impegnano, danno una mano in questo sforzo che il Paese sta davvero cercando di realizzare.